Che cosa stiamo facendo? Niente, questa è un'iniziativa della comunità europea, dove l'Emilia Romagna ha dato la sua adesione. Si sono costituiti vari gruppi di volontari, che da Goro fino alla spiaggia della Romagna, Cervia, Riccione e quant'altro, si sono organizzati per raccogliere il maggior numero di rifiuti, ma soprattutto per sensibilizzare l'opinione pubblica su questo grave problema dell'abbandono dei rifiuti. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.